Il contaggio aumentano! Diciamo al Presidente della Regione Fontana che se sono incapaci dovrebbero dimettersi a lasciare il posto a quelli un po' più capaci di loro, ci hanno fatto chiudere una settimana con i dati inventati, sbagliati, perché non sanno neanche contare, però il stipendio loro lo sanno contare bene a spese di questa gente qua, capito? Che ci tengono chiusi. Noi non dobbiamo cercare la gente che viene qua che vuole fare lo scontro, noi siamo delle persone per bene, siamo padri di famiglia, va bene, siamo padri di famiglia, nessuno non dobbiamo cercare l'incontro! La gente come noi non morla mai, la gente come noi non morla mai! La gente come noi, la gente come noi non morla mai! Andiamo a posto qui a casa, vogliamo lavorare! No non tre ơi, non dobbiamo lavorare! Andiamo avanti! Siamo ali, io sono. Grazie a tutti.